Una festa durata per tutta la notte, quella del rione Croce Bianca che nella giostra della rivincita di Foligno porta a casa il suo ventiduesimo palio con il cavaliere Daniele Scarponi che in sella a Woman in Rose ferma la somma dei suoi tempi in 2 minuti 45 secondi 81 centesimi. Per lui è l'ottavo drappo nella sua gloriosa storia di cavaliere di giostra. L'impatto col debutto è stato difficile nel senso che la cavalla è molto molto brava però il debutto l'ha accusato un pochino e sinceramente mi ha un po' spiazzato ma anche agitato perché non l'aveva mai fatto però conoscendo la cavalla è seria dico se riesco a partire adesso la cavalla dopo si comporterà bene infatti va bene è partita poi non mi ha dato più un problema anzi è andata molto molto meglio le prove. A questo punto la grandezza di Scarponi e del Croce Bianca non è solo nel saper guidare un cavallo ma anche nello sceglierli? Noi sarà anche per fortuna perché non è facile trovare i cavalli adatti però cerchiamo di trovare il cavallo diciamo più adatto possibile al gioco e il cavallo più adatto a me perché ci sono cavalli forti però non si prendono il cavaliere e il cavalliere non si prendono il cavallo dunque non riesce a fare il binocchio. Io questo cavallo l'ho avuto fino all'ultimo abbiamo comprato sono contentissimo anzi ringrazio il rione ma questo cavallo perché è un anno ce l'abbiamo e la vittoria è grandissima da mio figlio Edoardo la mia prima vittoria a Fuligno con lui. Per il priore Andrea Ponti è invece il quinto palio da quando è alla guida del Croce Bianca una gioia la sua dedicata alla famiglia e contro Adaioli esplosa proprio sul finire di una gara vincente fino all'ultima tornata con lo spada il cavaliere Gianluca Chichini che hanno conteso la vittoria con unghie e denti arrendendosi infine alle prodezze di Scarponi. All'inizio la prima tornata ha pagato un po' lo scotto dell'esordio poi naturalmente Daniele è stato grandioso ma non solo Daniele anche i ragazzi della scuderia perché la prima tornata con il problema di partenza che c'è stato sono stati fondamentali i ragazzi della scuderia. Una parola questo palio se me lo consentite è tutto per Sipone Cannella un mio grandissimo amico grande rionale che purtroppo non c'è più.